come attivare il security boot su pc ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come attivare completamente il security boot che serve soprattutto per windows 11 e per altri giochi e soprattutto per i programmi che scaricate sul vostro pc e ovviamente il security boot è molto importante ed è anche una protezione per il nostro sistema tutto il sistema del computer quindi in questo caso per capire se il tuo security boot è attivo oppure disattivo tu basta che vai su system information ed eccolo qua stato avvio protetto ed eccolo qua questo è il security boot e qui c'è scritto che a me è attivato quindi per attivare questo stato di avvio protetto va fatto tutto sul bios della scheda madre quindi in questo caso quello che devi fare è riavviare un attimo il sistema ed entrare nel bios quindi adesso andremo a farlo quindi in questo caso io premo il tasto che mi ha detto di premere per entrare nel bios vado in alto a destra nella barra della ricerca per prima cosa ovviamente se non ti fa attivare il security boot dobbiamo prima abilitare la modalità UEFI ovviamente se scrivi UEFI imposti così su BIOS modalità UEFI al posto di CSM quindi metti UEFI poi qui scrivi security boot quindi secure una cosa del genere security boot ed eccolo qua quindi se a te è disabilitato tu devi solamente abilitarlo ed eccolo qua da disabilitato metti abilitato e come seconda opzione security boot mod la modalità del security boot metti standard l'hai fatto una volta concluso tutto questo premi il tasto F10 per salvare la configurazione quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao